Non sono bastate le rassicurazioni arrivate ieri dal ministro Giorgetti al tavolo romano del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, al quale si sono seduti anche i sindacati e il gruppo Stellantis, attorno a cui gravita anche la Sevel Diatessa, che nei giorni scorsi è stata oggetto di un pesante ridimensionamento dei turni di lavoro da 18 a 15 e che di fatto ha lasciato a casa circa 900 lavoratori somministrati per la mancanza di semiconduttori prodotti in Asia che hanno bloccato la produzione del Ducato in Valdisangro e non solo. Le garanzie del tavolo del Mise non bastano infatti a rassicurare lavoratori e sindacati perché a preoccupare e soprattutto la concorrenza della mano d'opera polacca nello stabilimento di Gliuizza che, come emerso ieri dal tavolo del Mise, non sarà alternativo alla Sevel Diatessa ma complementare. Per la UIL il tavolo ministeriale con Stellantis deve proseguire fino alla definizione di una missione produttiva per tutti gli stabilimenti italiani con il governo che non dovrà solo essere garante ma anche supporto perché il momento, già di per sé difficilissimo, è aggravato dalle problematiche legate al processo di riconversione della produzione nel solco della transizione ecologica. Nicola Manzi, segretario per Chieti Pescara della UILM Metal Mechanics e coordinatore regionale della UILM Abruzzo. Qual è la situazione in Sevel oggi? Questa azienda aveva 6.780 dipendenti all'interno, adesso ne conta circa i 5.522 di effettivi e adesso sta lavorando con 15 turni e con 450 somministrati ricordando che circa mille persone sono state mandate via tra trasfertisti e lavoratori in somministrazione a vario titolo. Va precisato che questa realtà, questo stabilimento ogni qual volta apre i battenti da lavoro a circa 20.000 persone. Questo è il numero che noi abbiamo censito all'interno della nostra organizzazione. Non dimentichiamo che rappresenta il 13% del PIL regionale questo stabilimento. Preoccupa anche la concorrenza dello stabilimento polacco? La Polonia non la scopriamo adesso, è già stata annunciata nel 2019 quando l'allora Tavares in rappresentanza di PSA ci annunciarono il passaggio da 15 a 17 turni e in più l'avvio della linea di montaggio in un stabilimento polacco per avere una capacità produttiva di oltre 100.000 furgoni l'anno. Di fatto in quel giorno noi abbiamo perso il monopolio della produzione del Ducato qui in Sevel. In Europa in Sevel si produceva il Ducato fino a ieri, oggi invece partiamo con circa 25-40.000 furgoni che nel corso dell'anno prossimo verranno prodotti fino a che non si arriverà a 100.000. Oggi intanto la FIOM CGL ha riunito a Roma il coordinamento nazionale per analizzare e discutere quanto è emerso ieri con Stellantis dal tavolo del Mise. Per Domenico Bologna, della FIOM CISL per Abruzzo e Molise, resta fondamentale il coinvolgimento della politica per ammodernare le infrastrutture abruzzesi e rendere competitivo il territorio. Dobbiamo cercare di rendere il nostro territorio sempre più attraente perché nonostante la rassicurazione di ieri noi sappiamo che in ogni caso qualcuno farà una comparazione tra i costi tra il furgone prodotto in Polonia e il furgone prodotto in Val di Sangre. Quindi noi ribadiamo l'invito ancora alle istituzioni a risolvere definitivamente le questioni che abbiamo posto anche al Ministro Orlando e al Ministro Giorgetti infrastrutturale del nostro territorio. Quindi chiarire la questione dei porti, completare la superstrada e il collegamento adriatico-terreno risolve la questione dell'energia e la questione della banda larga. Se noi facciamo queste cose con la professionalità dei lavoratori possiamo stare tranquilli. Se non facciamo queste cose è chiaro che qualcuno farà dei conti perché non fare queste cose significa alzare il costo del lavoro in seven.